Il quarto rigore ha segnato da Maresca nel massimo campionato il primo in questo torneo Marchetti contro Memushai Dagli undici metri per il suo primo gol in Serie A Team La rincorsa di Memushai va con il destro E sbaglia il calcio di rigore Mette fuori Lady Memushai Il ruggito dell'Olimpico Calciato malissimo Lady Memushai Colpisce anche il terreno la rabbia di Alberto Aquilani La disperazione di Memushai